Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione di Muoversi in Toscana Info in studio Andrea Biagioni. Situazione sostanzialmente tranquilla su tutta la rete stradale e autostradale toscana, per il momento si segnalano solo dei rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Firenze a causa di un veicolo in avaria. Rimaniamo sulla 1 dove è presente un controllo della velocità nel tratto compreso tra Incisare Gell e Firenze Sud in direzione Firenze. Controllo della velocità anche in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione Rosignano. In Fipili fare attenzione ad un veicolo fermo in avaria tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Passando ai treni un aggiornamento sull'Intercity 590 Napoli-Milano che ormai ha accumulato un ritardo di 93 minuti arriverà a Firenze rifreddi alle 17.09. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Un viaggio! Toscana, Città Metropolitana di Firenze